Allora aspetta che faccio una richiesta interna, questa è dedicata a Mojana, vai, mi fa vedere il bambino come si fa prendere, e Dani, guarda, c'è Palla Gialda dedicata al suo amico. Ma mira solo le cose belle, il cuore, l'elettrofe, ma che bella. A fare la foto, bravo, bravo, e guarda che ti faccio guardare, a fare la foto. Grazie a tutti.